buonasera eccoci siamo qui quindi oggi dunque se noi ci stiamo vedendo vuol dire che oggi è martedì martedì puntuali puntuali ancora alle 21 poi stiamo stiamo pensando lo dico subito stiamo pensando di cambiare l'orario e di vederci verso le 23 23 30 quindi un orario un pochino più comodo da ascoltarci direttamente quando uno è già nella fase rem perché questo vorrebbe dire ascoltarci in cuffia così ti resta nell'interno e ci puoi pensare riflettere senza rendertene conto giusto sì sì diciamo poi abbiamo anche effetti soporiferi quindi perfetto per chi soffre di insonnia ci mette in cuffia e va giù dritto e quindi alle 10 a letto i bambini e poi arriviamo noi 10 e mezza 23 per farvi addormentare esatto io ricordo che quando ero quando ero giovane esisteva dei metodi che poi non hanno mai funzionato ma che erano quelli per imparare le lingue con la cuffietta quindi tu mettevi le cuffiette e poi ascoltavi questa cosa che non ho mai capito se funzionavano o meno però magari adesso lo facciamo con con io ritrovo me di Dario Zanotti in cuffia tutte le sere o anche soltanto il martedì che incubo che paura già li abbiamo terrorizzati allora avere un progetto sì avere un progetto eccoci vado faccio l'introduzione ma allora diciamo che no non faccio introduzione io stasera voglio adottare il criterio del meno perfetto quindi e quindi parlerò di meno però le cose che dirò probabilmente saranno un pochino di più ma non dico cosa e sì già immagino adesso mi fa venire in mente quando lei disse se si ricorda un po' di risposta per questa sera mi tengo pronto no vabbè vuole che vuole che parto subito con il primo il primo il primo la prima domanda parto 10 secondi così introdurre l'argomento poi magari le assento assento la bomba no volevo solamente dire che appunto oggi è uscito il mio articolo avere un progetto intendendo avere un progetto di vita ed è un articolo che fa scopa con un altro articolo che era fermarsi a pensare ok quindi piano piano diciamo non sto seguendo proprio una linea un piano editoriale vero come bisognerebbe fare sono diciamo un piano editoriale a mosaico e andando a comporre i pezzi si riesce un po a capire il tutto però mentre nell'altro articolo appunto consigliavo di fermarsi a pensare di capire che strada fare in questo ho cercato di andare un po più dentro e di spingere un più sul sull'agire no su mettere in pratica un progetto nuovo ecco di cambiamento di vita basta questa introduzione adesso mi metto l'elmetto e il giugno no 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 lo sai che poi ho la fin fine sono sempre sono sempre pompiere ma incendiario però diciamo che la lettura di questo articolo che normalmente eh riesco a fare nel fine settimana con calma con tranquillità no vabbè calma e tranquillità sono parole ho aggiunto così a caso eh in questa occasione oggi non l'ho non ho avuto modo di farlo quindi l'ho letto di getto anzi l'ho letto e l'ho riletto eh in questi minuti diciamo così e diciamo che quando sono arrivata alla fine era un po disorientata credo che la parola disorientata sia quella che proprio mi rappresenta meglio perché perché io leggo dall'inizio dell'articolo vado a vedere tutta una serie di riferimenti no e quindi eh giustamente tu dici eh vivere senza pensare un po un vivere a caso bisogna eh organizzarsi bisogna eh cercare di evitare di sopravvivere ma quindi di vivere eh di avere le idee chiare quindi di essere molto programmati no ok e quindi una sorta di eh taccuino degli obiettivi che si vogliono raggiungere che si devono raggiungere perché se uno si perde eh poi rischia di fermarsi no cioè se non hai l'obiettivo immediatamente successivo e quindi già ero entrato un pochino in ansia dico ah 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 così bene poi però arrivo verso la fine del tuo articolo e trovo una cosa completamente diversa cioè trovo che in realtà eh bisogna prendersi il proprio tempo vivere senza troppo ansia vivere in libertà vivere in leggerezza allora il disorientamento è proprio questo no cioè tu all'inizio sei partito come un caterpillar dicendo no no bisogna 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 e poi in fondo dici ma no ma poi non è così importante ecco mi aiuti a ritrovare la direzione sì ti aiuto e ti ringrazio per la domanda perché in realtà quando uno poi scrive una cosa e in testa è tutto chiaro e poi nel cercare di trasmetterlo di comunicarlo in effetti visto con gli occhi di un'altra persona magari non è così chiaro allora in realtà eh sono la stessa cosa eh c'è un passaggio nella parte finale dell'articolo dove io dico che il mio progetto di vita non è più un obiettivo a cui tendere ma è un modo di vivere no cioè io prima avevo degli obiettivi molto semplici molto pragmatici standard anche materiali e adattavo il mio modo di vivere per raggiungere quegli obiettivi no adesso il mio progetto di vita è un modo di vivere ok quindi vivere senza stress senza aspettative insieme agli altri in lentezza ok quindi all'inizio io consiglio di capire di fermarsi e di capire che cosa si sta facendo cioè di non vivere con il paraocchi di non vivere con il pilota automatico qualsiasi cosa uno sta facendo durante la giornata di fermarsi e capire che cos'è e dopo di che avere un progetto di vita che attenzione non è un obiettivo è un progetto di vita cioè sapere che cosa si sta facendo ok ehm è un po' difficile da spiegare forse non sono tanto bravo in italiano io sono più bravo con i numeri però ehm cioè io intendo non continuare a fare le stesse azioni quotidianamente ehm col pilota automatico no senza eh cioè dimenticandosi il perché si fanno no ma ricordarsi ogni volta se si stanno facendo per un determinato motivo e se quel motivo è un nostro desiderio è una cosa alla quale noi vogliamo tendere no e quindi chiedersi perché non sto facendo quelle azioni per andare in quella direzione no io ho fatto un esempio banalissimo no ho parlato di uno scrittore no se uno vuole diventare scrittore vuole scrivere un libro e durante il giorno non scrive probabilmente non sta andando dove vuole ok sta facendo tutta una serie di azioni inconsapevolmente magari che non lo avvicinano al desiderio al suo progetto di vita ok e ognuno c'è il suo il mio è eh ho capito diciamo in questi anni che il mio eh è un come dire godere di quello che ho di stare bene in tranquillità eh senza tendere diciamo un obiettivo in maniera classica ecco non so se sono uscito a spiegarmi ecco sì però perdonami tu hai utilizzato ehm la terminologia senza aspettative sì no cioè il senza aspettative in realtà è eh eh normalmente ha una interpretazione negativa no cioè non mi aspetto nulla qualunque cosa mi capita va bene in realtà per te non è così cioè il senza aspettative per te è il senza obiettivi prefissati ma anche questo non è vero perché nella realtà tu hai degli obiettivi no che sono quelli di vivere in in maniera eh soddisfacente ecco quindi poi non vuoi vogliamo non chiamarli obiettivi ma sostanzialmente poi no cioè rischiamo di cambiare soltanto la parola ma non non il contenuto quindi anche il dire il senza aspettative ho la sensazione che possa essere fuorviante e quindi eh per questo ci tenevo a farti in qualche modo no chiarire questo concetto perché ripeto la mia prima lettura è stata una lettura nella quale parti eh ancora come il vecchio Dario Zanotti no anche se esprimi un concetto esattamente opposto no quello degli obiettivi che poi non sono così importanti anzi bisogna farne a meno però ti riconfermi e invece nella fine ti riappropri anche della bellezza della casualità delle cose no decise all'ultimo secondo eh senza avere senza avere troppe troppe cose e poi altro aspetto eh quello della dell'avere un progetto tu lo chiami progetto magari in passato lo chiamavi obiettivo sì eh perché infatti non riesco a a trovare la parola giusta cioè ehm quello che che io intendevo in questo articolo qua era semplicemente un concetto che forse magari se l'avessi scritto in maniera semplice avrei insomma comunicato meglio ma forse non c'è scusa Dario non c'è una una maniera semplice cioè ognuno di noi lo interpreta e lo ascolta ecco perché sono importanti secondo me queste nostre chiacchierate no perché tra certezze e dubbi eh passano i giorni e si costruisce la vita guai ad avere solo certezze no quindi anche nel come tu fai e lo fai magnificamente nell'esprimerti ci sono delle cose che tu interpreti e descrivi in un certo modo e magari un'altra persona in una determinata situazione li può interpretare in maniera diversa no quindi è anche questo cioè il bello delle nostre chiacchierate sta anche in questo nel cercare di eh di capire no di chiarire meglio certo sì no ma infatti adesso perché io ho la fortuna di parlare con te che mi esprimi quello che tu hai inteso dalle mie parole però sarebbe bello poter fare lo stesso confronto anche con tutte le persone che hanno letto l'articolo no e qualcuno diciamo si azzarda a lasciarmi qualche commento sotto e in effetti anche dei loro commenti mi rendo conto che alcuni passaggi potevano avere giustamente tante interpretazioni però tante altre magari lo leggono e basta non me lo comunicano ma sarebbe molto bello il confronto proprio per capire queste sfumature eh diciamo che comunque se provo a riesprimere meglio il concetto dell'articolo cioè la io riguardo sempre me stesso cioè io non voglio indottrinare nessuno come ho sempre detto cioè io quando scrivo gli articoli come se parlassi al me stesso di un po di anni fa no come per prenderlo per il barro direi Dario datti una svegliata perché io cosa facevo prima fondamentalmente avevo inanellato tutta una serie di azioni di obiettivi di cose uno di seguito all'altro eh tutte concatenate che alla fine non c'è se uno mi avesse chiesto cosa stai facendo gli avrei risposto guarda non lo so devo fare punto e basta cioè ormai ero talmente nella scia talmente nel treno che facevo tutta una serie di cose e diciamo quella lavorativa era l'esempio più facile più banale no c'è l'idea di dover scalare i gradini della carriera di dover fare la libera professione di guadagnare di più eh cioè tutto questo era tutto concatenato ma non è che mi fermavo mai a chiedermi perché perché lo sto facendo no veramente lo voglio fare no e quindi il messaggio che io volevo dare era questo dire cioè ragazzi non facciamo le cose coi paraocchi senza pensare o perché siamo in scia perché ci siamo abituati così perché ce li hanno consigliate ma cerchiamo di capire che cosa vogliamo fare e una volta che l'abbiamo capito cantare ballare scrivere insomma quello che ci pare farlo no farlo cioè non aspettare il momento propizio non perdere tempo con altre attività no e c'è un pezzo bellissimo di fight club eh quando eh Tyler eh va eh in un in un negozio in un diciamo in un piccolo supermarket e punta la pistola al cassiere e cerca di capire non per derubarlo ma chi era il cassiere no e il cassiere questo ragazzo tutto tremante gli racconta che era iscritto mi sembra biologia o a veterinaria e per lavorare per entrare nel circuito del consumismo del business per avere soldi aveva lasciato la sua passione che era biologia o veterinaria e lui con diciamo vabbè naturalmente con la forza lo costringe a ritornare sulla sua strada no come per dire non ti corrompere e secondo me quel passaggio lì del libro o della diciamo del film è quello che io volevo dire no cioè io mi io mi sono corrotto anni fa cioè ho fatto tante cose che poi magari andando a guardare dicevo ma perché le sto facendo e quindi ora il mio nuovo progetto di vita sembra un paradosso ma è proprio quello di eh avere un modo di vivere che sia più affine a me no perché non avere proprio nulla eh cioè non pensare vivere così eh in realtà eh ti sballotta no ti sballotta cioè alla fine della fiera paradossalmente ti metti a fare tutta una serie di cose che non è vivere serenamente vivere senza aspettative vivere senza stress è proprio il contrario cioè la società dove viviamo se vivi senza pensare ti coinvolge ti incanala e ti ritrovi a fare capito tutta una serie di attività infatti tu tu nell'interno dell'articolo descrivi eh puntualmente no cerchi di ricostruire puntualmente quello che poi sono eh il quotidiano quindi anche le azioni eh quotidiane che vengono fatte che tu descrivi eh quasi fosse una una eh vecchia schedina no con l'uno x due tu in realtà fai una cosa di questo tipo che eh le azioni neutre inutili e utili no quindi eh tra quelle almeno per come io l'ho letta eh le neutre sono la vittoria perché comunque sono quelle delle quali non puoi delle quali non puoi far a meno no perché sono proprio la 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 vita no la necessità eh poi c'è il pareggio che sono quelle utili eh la fregatura sta in quelle inutili e qui di nuovo tu in quelle inutili però mi metti lo svago sì ecco ci chiarisci anche questo sì perché lo svago viene cioè giustissimo ma perché consideri lo svago quindi il tempo libero il tempo perduto il tempo da utilizzare utilizzato in maniera diversa perché è un'azione inutile? Allora perché ehm diciamo ehm è sempre difficile eh in effetti ci vorrebbero milioni di di parole ehm io lì come svago intendevo ehm tu immaginati ehm una settimana standard ok quindi cinque giorni eh produrre eh denaro ok e due giorni consumare denaro ok io come svago intendo proprio quello il consumo di denaro no cioè nel senso il doversi svagare ehm per sopportare eh il carico che uno si ha che uno ha durante la giornata se uno nelle azioni neutre diciamo gli eh nelle azioni neutre nelle azioni utili eh avessero il peso maggiore ok non avresti la necessità di svagarti perché il diciamo ehm è proprio difficile da spiegare cioè eh la tua vita stessa eh non non è come dire eh come dire desiderare una vita dalla quale non andare mai in vacanza ok cioè se io sono appagato e soddisfatto perché ho soddisfatto i miei bisogni primari e fondamentali no che sono le azioni neutre che sono fondamentali e molto spesso magari neanche le facciamo bene perché mangiamo di corsa perché non parliamo con le persone cioè le azioni neutre proprio non vengono calcolate ok e in più aggiungo quelle utili per il mio progetto cioè voglio scrivere un libro e quindi metto la mia passione nella scrittura poi tutte quelle inutili in realtà posso anche non farle non farle più cioè eh io ho notato che perdono di senso cioè non ho più voglia di eh non lo so eh buttare i soldi in determinate cose che facevo prima cioè la necessità di svagarsi nel senso standard che intendiamo oggi non è più necessaria no perché la tua vita è ehm cioè non ti devi riposare capito perché la tua vita è ogni giorno soddisfacente so che è un'utopia perché è difficile però è lì che bisogna tendere capito l'ho spiegato in una parentesi e lì infatti è stato un boomerang avrei dovuto dirlo un po meglio no 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 ascolta c'è anche una una un detto zen eh che nella realtà afferma proprio questo cioè eh che il bello è proprio di non distinguere tra lavoro e divertimento perché quando fai una cosa e la fai con passione eh no e gli altri la possono scambiare per divertimento o per lavoro e quindi non capiscono che tu in realtà lo fai perché appunto è il tuo mondo è la tua vita quindi ci ritrovo ci ritrovo benissimo però ecco c'era la necessità anche di eh chiarire questa formula no eh per la quale altrimenti dice ma come ma come sto Dario è diventato così niente più neanche più divertimento ma insomma e va bene io mi permetto di aggiungere una cosa che se vuoi scrivere dei libri devi anche leggere tanto assolutamente assolutamente cioè mi per mi sono permesso adesso di aggiungere qualche parola alla tua cosa perché insomma mi sembra mi sembra importante sì beh lo diciamo sempre esatto lo proviamo a ripeterlo velocissimamente Dario Zanotti la mattina si sveglia e tra le sue azioni quotidiane legate al benessere oltre che andare in bagno e lavare i denti c'è la cosa quella classica che è lo scrivere e il leggere esatto sono fondamentali secondo me tra l'altro volevo dire una cosa sul leggere cioè la gente magari si spaventa perché dice ah ma magari il libro è lungo questo e quest'altro un consiglio che vorrei dare sulla lettura non è quello di focalizzarsi sul libro no quanti libri ho letto eh in quanto tempo cioè perché anche lì bisogna uscire dalla competizione no cioè ogni volta dobbiamo contare dobbiamo analizzare non è così cioè se io la mattina eh ho una mezz'ora faccio un esempio e leggo una pagina non fa nulla perché se in quella pagina c'è un concetto che mi aiuta durante la mia giornata è sufficiente va benissimo cioè ok a posto così cioè non c'è è questo perché ogni volta che dico di parlo con qualcuno di parla di della lettura ma che palle i libri così ma non c'è bisogno c'è una pagina una pagina due pagine tre pagine cioè nel senso è già tanto capisce già tanto perché basta anche un solo concetto al giorno che noi non abbiamo che ci stimola qualcosa nel cervello e ci fa fare pensieri nuovi cioè se non abbiamo pensieri nuovi no e io con pensieri nuovi non intendo le notizie o le altre robe perché quei pensieri sono come dire confusi cioè no c'è un pensiero nuovo è chiacchierare in maniera approfondita con una persona o leggere un libro a quel punto hai un input nuovo che il cervello rielabora e tiri fuori delle nuove idee no e quindi dico stiamo un quarto d'ora venti minuti meno sulle notizie o sui social e passiamole su un buon libro qualunque esso sia questo dico sempre anche se ogni tanto non lo citiamo però dico sempre e poi sì scrivere anche se non sai scrivere butta giù vedi un po cosa tiene fuori è bello insomma sì io devo dire che da quando da quando abbiamo iniziato queste nostre chiacchierate mi li prometto sempre di iniziare a scrivere cosa che ancora non ho fatto e della quale mi pento perché probabilmente mi aiuterebbe a rileggere o a rivedere o a affrontare di nuovo eventi accaduti nel breve periodo e invece la pigrizia se vuoi o anche la paura perché talvolta non si scrive sì per pigrizia o anche per paura poi di dover rileggere di doversi confrontare però adesso riavvolgo il nastro e allora nel tuo articolo c'è una serie di cose interessantissime che consentono alle persone anche di leggerlo dedicandosi del tempo e anche di come diceva pennac di leggerlo saltando no cioè pennac in uno dei suoi libri più importanti dice non è detto cioè non è detto che un libro vada letto tutto cioè devi essere libero di lasciarlo non è detto che devi leggere tutto conseguenziale ci possono essere delle cose che ti interessano altre no ecco il fatto di avere nell'interno dei tuoi articoli anche una sorta di indice consente alle persone anche di focalizzare quelli che possono essere i punti di maggior interesse eh di leggerli in prima battuta non è che poi si perde il segno ma come dire no è una telenovela non ho visto le puntate precedenti no le puntate della vita sono sono così talvolta ci appaiono prima alcune scene che non ci aspettavamo e poi arrivano le altre no oppure il famoso ci accadono cose che poi il tempo ci dirà perché tu ogni volta e in questa occasione con avere un progetto vai proprio a di nuovo a ripuntualizzare a mettere i puntini su lei su tutto quello che è una sorta di indice cioè chiamiamolo effettivamente per quello che è no perché tu parti dal come abbiamo detto prima bisogna avere un progetto di vita cioè bisogna avere degli obiettivi poi chiamali obiettivi chiamali eh volontà chiamali di ma cioè ci deve essere qualcosa non puoi vivere alla giornata così nel nulla più totale no e ok poi nella realtà dici anche eh parli del progetto il progetto della vita e cosa importante il come metterlo in pratica ora abbiamo detto mille volte eh tu scrivi questi articoli che non vogliono essere i manuali di arte orientale per diventare felici in 30 secondi no probabilmente però per cominciare un percorso in 30 secondi sì allora ci racconti bene eh il come mettere in pratica quello che si vuole fare sì diciamo eh in realtà è una cosa abbastanza semplice no eh parte tutto dal 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 fermarsi e dal pensare ehm guarda volevo fare solamente una piccola parentesi non so se altre volte ne ho parlato però nella nella religione islamica le i cinque momenti di preghiera si chiamano riconciliazione no eh cioè loro in quei cinque momenti di preghiera si fermano e cercano di capire dove sono no cioè si eh è un momento di consapevolezza per loro no cioè si fermano e dicono ok sì sono nella strada giusta sto sto facendo le cose fatte per bene che un po' corrispondono anche no ai cinque momenti di preghiera della cristianità se non sbaglio eh però ecco eh il messaggio che io volevo dare era proprio questo cioè fermarsi riconciliarsi e capire no se stiamo facendo se stiamo andando a caso se la strada è quella giusta e quindi eh diciamo il il mettere in pratica un progetto fondamentalmente si basa su due su un paio di attività la prima è quella di capire quale sia questo progetto cioè che cosa voglio fare io della mia vita la vita è un dono preziosissimo ok ce lo dimentichiamo non ci pensiamo mai però è un dono preziosissimo potevamo non nascere possiamo morire domani quindi è una cosa inestimabile ok e quindi dobbiamo cercare di valorizzarla il più possibile quindi che cosa voglio fare della mia vita no qualsiasi cosa cioè non è che c'è una regola cosa voglio fare io nell'articolo dico quando lo chiedo alle persone la gente mi risponde ah sì voglio diventare ricco e stare in spiaggia ma in realtà non è quello no ma cosa voglio fare voglio aiutare gli altri voglio esprimere una passione che cosa che cosa voglio fare della mia vita poi il secondo punto è perché non lo fai subito no cioè se sai che cosa vuoi fare nella tua vita perché non lo fai subito perché in realtà se vai a pensare al tuo progetto di vita e lo vai a scomporre nelle attività che ti servono per raggiungerlo per diciamo essere felice a me non piace questa parola sicuramente qualcosa la puoi fare già da oggi no appunto io parlavo della scrittura per esempio uno appunto vuole scrivere libri inizia a leggere fai dei tentativi no invece abbiamo questa tendenza a procrastinare no ad aspettare a dare una giustificazione esterna e dire no beh quando ci sarà quel momento propizio quando le cose andranno meglio quando avrò quei soldi ma non è così fondamentalmente no quindi i passaggi sono capire che cosa vuoi fare renderti conto che lo puoi fare fino a partire da oggi e cercare di ridurre le perdite di tempo perché se hai un desiderio è giusto che una parte della tua giornata sia dedicata a quel desiderio no non puoi sempre fare delle azioni ripetitive e delle azioni per andare avanti per insomma cioè è giusto dedicare uno spazio a quel tempo lì c'è un tempo al tuo desiderio e mano mano farlo crescere giorno dopo giorno il fatto di dedicarci anche una piccola parte della giornata a quel tuo desiderio ti gratifica e ti rende sopportabile il resto della giornata il tuo momento di gioia diventa seguire il tuo progetto di vita no dire ok su 24 ore un'ora l'ho dedicata al mio progetto di vita sto andando dove voglio andare quindi fondamentalmente questi sono sono i passi niente di che cioè solamente che non lo facciamo no cioè si va avanti cioè vabbè ci penserò durante le vacanze oppure ci penserò e ogni volta ci sono degli impegni nuovi creati da noi creati dalla società creati dagli altri che ci distraggono e non pensiamo mai a questo progetto ma nel frattempo il tempo passa no io ho sempre questo terrore del tempo che passa e dell'energia perché l'energia che abbiamo oggi non è la stessa che avremo domani perché ogni giorno che passa un giorno in meno e quindi io dico che cosa stiamo aspettando no cioè cerchiamo di realizzare certo non cambiare dall'oggi al domani ovvio no perché come si vede nei film mollano tutto no non è quello ma cominciare a fare un percorso cioè mettersi sulla strada giusta questo è il punto sai che tu hai utilizzato due parole che questa c'è due parole hai utilizzato la parola riconciliazione no sì che in contabilità che tu lo sai hanno un significato molto chiaro no cioè riconciliare i conti vuol dire capire che tutto è messo nella casellina giusta che tutto è stato sistemato per benino che i conti tornano e in realtà tu hai utilizzato poi la riconciliazione come fosse la contabilità della vita esatto quindi in realtà stai proprio facendo no facciamo questo mastrino vediamo che cosa c'è sotto uno dice sì quadra la guida quadra sì va bene allora va bene ok andiamo avanti per un altro esercizio sì sì è così ma è così non nell'ottica del essere inquadrati rigidi o altro ma nell'ottica di vivere con consapevolezza cioè noi abbiamo la fortuna di essere pensanti no quindi abbiamo sì l'istinto l'emotività ma abbiamo siamo anche essere pensanti quindi non non rendersi conto di quello che si fa come dire è pericolosissimo pericolosissimo perché se vivessimo in un in un ambiente ok neutro cioè in un ambiente naturale dove potremmo esprimere la nostra istintività la nostra emotività non ci sarebbe bisogno di tra virgolette controllarci di riconciliarci no come gli animali gli animali in natura non è che devono stare molto a pensare fanno quello che sentono di fare ma un animale in cattività e noi siamo degli animali in cattività l'atteggiamento è completamente cambiato cioè entra la ragione per cercare il più possibile di di fare quello che si vuole perché altrimenti nella società in cui viviamo se uno si lascia andare è come dire la corrente ti porta e questo il punto secondo me no che sembra una cosa rigida e schematica ma purtroppo lo è diventata semplicemente per non come dire perdersi ecco perché io prima pensavo un po di meno e mi sono perso questo è il fatto quindi adesso cerco di pensare un po di più per ogni tanto rimettermi in carreggiata che poi una carreggiata buona con dei nuovi principi ok non è una carreggiata rigida però bisogna rimettersi in carreggiata senti tu hai usato un un inserito nell'interno del dell'articolo un proverbio africano che mia che mi è piaciuto moltissimo fatti dai degli spunti notevolissimi se vuoi andare veloce vai da solo se vuoi andare lontano vai in compagnia che è un altro concetto bellissimo perché appunto è proprio il il progetto condiviso il progetto comune quello del pensare che facciamo parte non siamo individuali non non siamo soli al mondo ma che quindi c'è anche la necessità di costruire di guardare di essere attenti a chi ci sta vicino ai bisogni alle esigenze no ecco anche su questo mi piacerebbe mi piacerebbe che tu ci ci spendessi qualche qualche parola in più perché ma è un concetto come per esempio sempre tu scrivi mi piace mi piace citarti ecco mi piace citarti c'è il progetto per essere condiviso per essere supportato anche dagli altri intanto lo devi raccontare lo devi dire lo devi esprimere e quindi devi informare le persone magari anche cercando il loro aiuto o comunque il loro sostegno quindi evitiamo anche la solita cosa sostegno economico perché non è quello però ecco appunto dici racconta racconta meglio sì allora diciamo io ho voluto fare questa precisazione perché nella prima parte dell'articolo sembrava un discorso molto individualistico dove faccio quello che mi piace calpesto gli altri vado dove mi pare in realtà non è così nel senso un progetto di vita secondo me per poter essere realizzabile deve considerare gli altri necessariamente necessariamente perché siamo appunto degli animali sociali e con la forza e con la collaborazione tra di noi possiamo fare cose molto più grandi cioè il mondo come lo conosciamo adesso non è stato costruito da una persona ma è stato costruito dalla collaborazione di migliaia e migliaia di persone sia a livello orizzontale no cioè sia a livello presente sia anche a livello intergenerazionale quindi anche il passaggio da una generazione all'altra fatta questa premessa quindi io ho distinto il nostro progetto di vita in un progetto comune o in un progetto condiviso un progetto comune è la cosa più bella cioè io ho un progetto coinvolto un'altra persona e diventa un progetto insieme ok cioè noi insieme abbiamo questo progetto e ci aiutiamo perché dove arriva dove non arriva uno arriva l'altro e via discorrendo può essere un progetto comune con due tre quattro persone non è importante l'importante è che non si è da soli oppure se il progetto è diciamo non è comune perché l'altra persona la pensa diversamente o perché necessariamente un progetto che riguarda noi tornando alla scrittura voglio fare lo scrittore e sono da solo voglio scrivere un libro io senza fare del male a nessuno deve essere quantomeno condiviso cioè le persone che mi stanno accanto mi devono supportare mi devono spronare mi devono voler bene e aiutare in credere in me ok credere nelle mie capacità e quindi spingermi spingermi non forzarmi cioè nel senso supportarmi dammi una mano no perché altrimenti i dubbi sono tanti le paure sono tante da soli non ce la facciamo e si finisce poi nell'apatia nel non fare nulla quindi l'ottica collaborativa e non competitiva come dico sempre è l'ottica giusta che però non ci viene insegnata perché a scuola dobbiamo competere al lavoro dobbiamo competere e invece non si collabora per esempio faccio un piccolo sulla scuola la questione dei voti sulla scuola è secondo me un disastro perché se io do un voto a 20 bambini sto creando automaticamente una classifica e una classifica è una competizione ok quindi se io prendo sei un mio amico sei e mezzo automaticamente io credo di essere inferiore a lui perché ho un voto un numero che esprime il mio valore e secondo me questa cosa è devastante non deve non dovrebbe essere così quindi ci insegnano la competizione da quando siamo piccoli e ce la portiamo avanti per tutta la vita e crediamo che gli altri possono essere solo un ostacolo ma non è così anzi possono essere un grandissimo supporto e senza di loro probabilmente non arriveremmo da nessuna parte senti dario ci siamo ripromessi di di essere molto più scusa no 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 dicevo ci siamo ripromessi di essere molto più non rapidi ma insomma di essere più 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 stretti più concisi anche per dare la possibilità a più persone di ascoltare ma soprattutto poi di leggere i tuoi articoli e di farti delle domande quindi utilizzando il sito utilizzando telegram cioè contattandoti nelle modi diversi io vorrei chiederti una cosa perché ormai siamo a abbiamo fatto parecchi incontri settimanali diciamo fuori onda noi si rifletteva su quelli che erano stati per esempio gli argomenti di maggior interesse e si diceva sono quelli legati al tempo alla necessità di fermarsi a pensare tanto per citare no alcuni dei tuoi dei tuoi articoli ecco avere un progetto è di nuovo legato e l'abbiamo già detto anche oggi molto legato al tempo cioè al come si utilizza il tempo ecco io invito lo lo reitero nuovamente cioè mettetevi in contatto scrivete con scrivete a dario trovate il sistema perché probabilmente anche quelle che sono le nostre chiacchierate devono essere delle sollecitazioni cioè vivete vivetele e viviamole anche come facciamo noi come delle sollecitazioni volutamente io leggo gli articoli di dario ma non gli anticipo mai quelle che sono le mie riflessioni i miei dubbi o le cose che poi ha un certo per me chiarire e definire meglio eh e da ogni incontro che noi abbiamo fatto io esco con un tassellino in più eh che piano piano riesco a mettere a mettere in ordine no quindi anche qui non è importante eh leggere eh leggere eh gli articoli le cose eh i contributi di Dario in un ordine di pubblicazione la cosa importante è essere stimolati cioè seguire quello che vi interessa di più quello che vi stimola di più tutto il resto arriverà perché poi alla fine riuscirete a leggere tutto eh e e a farne un utilizzo importante eh io voglio riprendere invece la parte finale del tuo articolo di di oggi eh che è quella dell'essere libero senza rendere conto a nessuno e qui parli del viaggio no? Eh io dopo l'incontro della scorsa settimana poi insomma ci siamo confrontati quindi anche tu dopo l'incontro della scorsa settimana eh con Claudia eh siamo rimasti non dico sconcertati ma insomma siamo rimasti abbiamo fatto un po' gulp no? Perché Claudia ci ha raccontato una storia anche lei di cambiamento di variazione eh di ripartenza importante eh di uno stravolgimento quello sì totale nella vita e anche per lei il viaggio era la cosa più importante allora tu scherzando mi hai detto ah sì anch'io vorrei no? fare una cosa di questo tipo cioè no io mi auguro che tu non faccia come Claudia eh però ecco raccontaci il tuo viaggio dici hai sempre sognato di viaggiare ecco cosa come quando dove ecco allora eh questo articolo ehm di oggi un po' si è ispirato naturalmente a l'incontro che abbiamo avuto con Claudia la settimana scorsa quindi se eh le persone vanno a rivedere la diretta con Claudia e leggono l'articolo di oggi è tutto un po' più chiaro perché Claudia l'altra volta ci ha raccontato un progetto di vita che è un progetto libero no? Sembra un po' un ossimoro no? Eh quindi eh che sono appunto i dubbi che tu avevi all'inizio cioè è un progetto di vita che include la libertà no? Ma allora se è libero non può essere un progetto no? Quindi e invece è proprio così quindi lei aveva un'idea chiara di quello che voleva fare lei voleva viaggiare voleva trovare il modo di rendere la cosa sostenibile e ha trovato il modo di essere felice e libera seguendo questo grande progetto di vita questa diciamo canovaccio della sua vita e lo fa con il sorriso sulle labbra con consapevolezza questa cosa mi ha folgorato ehm perché sono concetti che io già avevo e pensavo ma lei li ha espressi in una maniera proprio perfetta direi cioè proprio perfetta era l'incarnazione di tutto questo ehm arriviamo al viaggio allora io ho sempre sognato viaggiare eh sicuramente ispirato da mio padre perché mio padre di lavoro stava sugli impianti petrolchimici e quindi ha viaggiato tutta la vita e ogni volta che tornava mi raccontava di questi posti meravigliosi ma soprattutto delle cose che vedeva e delle persone che incontrava insomma erano dei racconti bellissimi poi all'epoca non c'era internet quindi per me lui era wikipedia no quindi io da lui imparavo tutto e quindi ogni volta che potevo pensare a un viaggio lo facevo a tutti gli esami di quinta elementare di terza media di quinta superiore ho sempre portato il viaggio come tesina quando poi ho potuto viaggiare l'ho fatto non poco insomma ho fatto dei viaggetti però erano sempre dei viaggi un po incastrati no eh tra un nelle vacanzine nelle cose eh il mio sogno sarebbe quello di viaggiare con molta più libertà molta più serenità cioè di come dire di avere solamente un biglietto di andata e non un biglietto di ritorno non per stare via anni ma diciamo non per stare via cinque giorni una settimana o addirittura un weekend ecco cioè fare un viaggio eh lento eh poi magari nei prossimi articoli lo spiegherò meglio diciamo io ho un sogno preciso di un viaggio preciso che vabbè adesso lo posso anche dire vorrei eh andare a trovare un mio amico che sta in Costa Rica e vorrei andarci via terra senza usare gli aerei ok quindi arrivare in Inghilterra prendere una nave che esiste che arriva negli Stati Uniti e poi scendere giù dagli Stati Uniti fino a Costa Rica quindi vivere il viaggio in una dimensione lenta in una dimensione umana non eh prendere l'aereo e in cinque ore arrivare dall'altra parte del mondo quindi un viaggio un po' così un po' tranquillo per andare a respirare le nuove culture avere nuovi stimoli eh e vedere cosa c'è fuori ecco sempre nell'ottica di arricchirsi no di di vivere a pieno la vita un po' questo eh credo che allora anzi mi auguro che nei prossimi nelle nostre prossime chiacchierate si si riprenda questa questa tua vena di viaggiatore di di navigatore perché credo che sia che sia importante in fondo eh stiamo parlando di un viaggio da tanto tempo con te perché eh i cambiamenti sono dei veri e propri viaggi quindi benvengano eh tu hai riportato Seneca dicendo non esiste evento favorevole per il marinaio che non sa dove andare eh mi sembra che tu abbia le idee abbastanza chiare quindi siamo contenti di condividere di condividere questo viaggio con te eh che dire Dario io credo che l'invito che noi possiamo fare è quello di leggere 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 il tuo articolo eh trovare il tempo di ascoltare anche il il podcast di eh riguardarsi poi tutta una serie di cose che sono state dette di rileggerle di ascoltare eh perché la scorsa settimana c'era stata Claudia eh ma prima ancora avevamo raccontato no? altre 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 storie di persone che hanno comunque fatto dei cambiamenti eh non è il cambiamento non esiste un cambiamento perfetto però quello che noi abbiamo raccontato finora ma proprio partendo da te e grazie a te è che ognuno ha dei cambiamenti anche dei delle piccole cose che ogni giorno può può cambiare nel suo quotidiano e che poi alla fine sono un po' come le bricioline no? di Ansel e Gretel e uno guarda indietro e dice guarda quanto ha stato fatto ecco ne stiamo ne stiamo facendo tante io sono contentissima ehm idea in itinere è il nostro canale io ritrovo me eh è quello che tu hai su Telegram su Instagram su Facebook eh sei in ogni dove DarioZanotti.it eh cercatelo cercatelo rincorretelo eh seguitelo perché perché per la pena eh Dario grazie grazie a te Anna grazie prossima settimana il nostro appuntamento? Allora la prossima settimana è sempre di martedì avremo un ospite speciale di nuovo un'altra persona eh secondo me vicina a Claudia nel senso con una grande consapevolezza e un grande cambiamento di vita eh che ha fatto tanti anni fa eh un cambiamento che riguardava la sua terra origine d'origine quindi sarà una cosa molto toccante molto emozionante quindi vi invito a guardarlo e e niente quindi insomma ci rivediamo martedì martedì prossimo assolutamente perfetto allora grazie grazie a tutti grazie Dario e a martedì a martedì ciao buonanotte buona serata siamo stati bravi eh siamo stati bravi non siamo arrivati alle 11 come avevamo minacciato dai siamo stati bravi no 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 Grazie a tutti